Pioggia, ghiaccio, neve, fulmine e tempeste, non vi temiamo. Il Revolution X può aiutarci ad affrontare nel miglior modo qualsiasi curva possibile senza finire in dilupi o schiantarci ad alta velocità su un platano. Ottimizziamo il controllo dell'auto con un semplice passo, inserendo un 25% 0.4 nel passaggio 1 e un 84% 0.9 nel passaggio 2. Per riuscire a tenere più possibile l'auto in curva, in situazioni estreme però, serve anche un ottimo dosaggio tra accelerazione e freno. Questo lo possiamo ottenere mantenendo 1.0.100 nei trigger. Porta 80, sinistra piena, attenzione, 30, destra 4, in, sinistra 5, in, destra 5, in, destra 5, in, destra 5, in, destra 5, in.